Il giovane Andrea fa record a l'eredità, 13 volte campione, lui su Instagram, grazie di tutto, si chiama Andrea Saccone, giovanissimo studente di Cortona, ed ha chiuso la sua esperienza a l'eredità, portando via 47.000 euro il record di campione per 13 ser. Mai prima d'ora nella storia del format c'era riuscito qualcuno, il ragazzo, giovanissimo liceale di Castiglion Fiorentino, è stato battuto solo alla 14esima puntata dopo aver sconfitto circa 80 avversari. Dalla tv alla maturità Andrea Saccone adesso si dedicherà alla maturità riprendendo in maniera regolare la sua preparazione agli esami di stato. Ma il suo nome entra nell'olimpo dei grandi quiz della televisione, accanto a veri e propri miti del campo, come Massimo Inardi e Andrea Fabricatore, campionissimi al rischiatutto ai tempi di Mike Buongiorno. Andrea Saccone a soli 19 anni ha conquistato uno dei programmi più difficili di Rai 1, riuscendo a portare a casa anche un discreto gruzzoletto, 47.000 euro sono un'ottima cifra. Quello che più sorprende è però il record, 13 volte campione, Andrea Saccone star su Instagram come prevedibile, il suo nome è schizzato in cima ai trend social, ricercatissimo soprattutto dalle giovanissime. Andrea Saccone proprio su Instagram ha ringraziato chi gli è stato vicino, un abbraccio che vale più di 14 puntate. Ciao e grazie di tutto, su Instagram tantissimi che hanno seguito il suo percorso hanno voluto fargli grandi complimenti, mancherai tantissimo Andrea, ti ho seguito tutte e 14 le puntate, posso dire che sei la persona più simpatica e intelligente che abbia mai visto. È quasi nato un vero e proprio fan club, complice la giovanissima età di Andrea, appena 19 anni, mi hai fatto commuovere, sei un ragazzo meraviglioso e sono sicura che nella vita avrai tutto quello che meriti e desideri, non perdere mai la tua dolcezza.